Poligioni vi eravate occupati dell'ex Carducci anche tramite il senatore De Poli che era venuto a Fano poco tempo fa per un sopralluogo. Anche in questi giorni stavate seguendo l'evolversi della situazione? Sì, certamente. Noi il 3 febbraio insieme al senatore De Poli siamo andati al liceo per fare visita in modo che il senatore si rendesse conto della situazione che io avevo segnalato una quindicina di giorni prima. Lui a Roma ha avviato poi un ITER su questi fondi che erano stati assegnati al commissario per la ricostruzione del sisma che dovevano essere stornati per poi essere assegnati al MIUR e in questo percorso erano attualmente nelle mani della Commissione di Garanzia e Controllo del Governo. Finalmente qualche giorno fa mi è giunta comunicazione che la situazione si era sbloccata e che questi fondi sono stati assegnati al MIUR, ripeto, assegnati sulla carta alla provincia. Cosa significa? Che adesso il Presidente della provincia Paolini deve essere in grado di recepire questi fondi e avviare i cantieri perché presto si arrivi alla demolizione, alla ricostruzione di questo stabile perché noi abbiamo centinaia di studenti e i loro professori in attesa di questo spazio che non hanno più da molto tempo. Cantieri che potevano essere già avviati con i fondi del PNRR? Ma probabilmente sì, la provincia anche ultimamente ha annunciato progetti per circa 40 milioni di fondi del PNRR sapendo che stavano arrivando e che quanto prima si sarebbe sbloccata questa situazione, che era una situazione burocratica e amministrativa perché il Governo aveva già fatto quello che doveva fare dal 2020, poteva intanto iniziare a preoccuparsi e ad avviare quello che doveva avviare per realizzare il progetto e l'opera. Intanto adesso è importante che la provincia recepisca questi fondi perché ci sono delle fasi, c'è la recezione del primo straccio e poi di tutto il resto ed è urgente che la provincia come mi sembra oggi abbia già annunciato avvii l'iter procedurale per avviare poi il progetto, i cantieri e che si faccia presto perché abbiamo già aspettato circa 3-4 anni, non vorremmo aspettare altrettanti 3-4-5 anni, è urgente che quest'opera finalmente giunga a conclusione.